Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. 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 Mi ha preso, Giorno. Mi ha diventato 10 mila da panna. La nostra panna, se hai notato, non si scioglie. Si scioglie dopo mezz'ora. Al 31esimo minuto... È trasgenica. L'ingrediente è... No, oggi è... Escono fuori i vermicelli verdi da dentro, Vars. Youtube, sai cattolo?